Eeeh, salve a tutti gente, qua c'è chi è che parla di oggi qui con un nuovo episodio di Kirby Planet Robobot Nella scorsa puntata abbiamo finito l'area 2 e oggi qui per andare avanti con l'area 3, spiaggia ottica Partendo da livello 1 Questo mondo è tornato ad essere a 7 livelli, quindi... Ok, ottimo Ciao Au Va bene, grazie Se ti fa piacere spuntarmi addosso, fallo pure Pensavo che avrebbe fatto un modi 3 di land Spurcarmi lo schermo d'inchiostro Au Tanto ho poi riuscito a farlo Quella di si è sempre stato lì, è coperso d'improvviso, cosa? Io provo ad andare qua sotto per vedere se effettivamente c'è qualcosa E te cos'hai fatto? Perché i disegni sono avanti? Vabbè Veleno, spada Siamo sott'acqua Chi c'è un combattimento? No Vado per la spada perché sott'acqua in generale è meglio Grazie Aspetta, posso fare così? Ah no, aspetta, non si può fare È l'abilità lancia che ti permetteva di farlo Ah sì, l'attacco E poi abbiamo avanzato tutto Ah, c'ho blocchi Questo qua è letteralmente il blocchi di tipo del axe Con due corna Di bulloni Ah Via Bello che non... Bello un attacco che le tre viti di tiri indivincibile sta fermo Oh no, io questo attacco lo odiavo tipo del axe Perché altro? Perché se effettivamente blocchi lo si prendeva Lo si affrontava sempre i spazi stretti però per il motivo Mi stava per ammazzare così, non ci credo Ok, speriamo non ci fosse nascosto niente lì Stai buono Che hai da nascondere te? Oh, bello Primo? Sì Aspetta, posso fare così? Perché mi vuoi complicare la vita? Non lo so Solo che esso abita non c'è poi se posso inserire Ok, ho detto che è inutile ma potevi anche risparmiarmela, sai? Dentro sto marino? No Tutta roba bot Ah, posso fare meno? Ok No Ok, mi sa che è giusto così Ah Ops Sto combiando casini, vai via Ricompara la corda, vero? Sì Eh, sì, ok Prendi sto coso Oh, ma cosa? Ah, l'ho bruciato correndoci sopra Ah, tutto questo per una vita Lì c'è il cubo Cubo, come ti prendo? Abbiamo andato per dire As Stai attento dove metti il cannone? No, schieriamo a non fare così, grazie Ah, posso sconfiggere? Effettivamente Lì c'è un cubo Sott'acqua È solo tipo Ehi, ricordatelo Lo puoi vedere solamente da qui Ma non quando sarei lì Io volendo posso andare sott'acqua Però io vorrei andare solo Vorrei andare nell'altra parte di schermo Levati delle scatole Ah, ok Eh, questo poteva essere un po' cattivo come cosa Però, vabbè Ce l'ho fatta Qua si può andare Cosa mi nascondite qua? Sticker dorato, sì Questo è un po' nascosto Però, bello ve l'ho trovato Cioè, vuoi dire Che effettivamente I primi due mondi erano salvi Poi il terzo mondo diventa Tripodalux Beh, devo tornare lì Grazie Non ci riuscirò mai Il timing credo si è cambiato La Tripodalux Rick Ok, Dreamland 2 Dreamland di Planet Robobot Ok Kirby Keep it Dreamland Va bene Livello 2 Faremo comunque solo tre livelli Anche se il mondo è tornato quello di Tripodalux No, forse ti voglio però Fammi indovinare Ti permetti di andare Camminare sull'acqua adesso, vero? Non respawni Mi avete messo qualcun altro per caso? Sì Grazie Voltare una volta Rende più veloce La ruota Va lì Aspetta Se È qua che ci fanno vedere Un'altra delle trasformazioni Speciali Possiamo dirlo Diventa un veicolo Figo Altro motivo per il quale si può capire Che è speciale per la musica Cosa? Ah Wow Un buon modo per cambiare direzione Come lo sprecate in modo stupido Ah Mi fa rispondere con la tutta roba Bene Santa però Genio Grazie Grazie Ok Era su Era più in alto Quindi non sapevo se potevo farlo Grazie Grazie Per lo sticker Questo è molto più bello Da ruota Normale Ok Corsa Mi sa Sì Ok Non è anche troppo pubblicata Pensa mi avrebbe fatto cambiare Il layer Almeno una volta Sarebbe stato divertente Se mi avesse fatto andare su L'acqua Ok Sticker dorato abbiamo preso no? Sì O era nello scorso livello O meno Non ricordo Ah Scusa Figo Ce l'ho lo sticker dorato Non ricordo Dannazione Aspetta posso vederlo là qua Effettivamente Figuriamoci Normale Che deluxe Questa era medaglia dorato Questa era medaglia dorato Non l'ho neanche vista Mi sta di sì però scintilla no? Medaglia metanite Nuovo Pleno robot Dannazione Dannazione Vediamo la data Tu non eri uno sticker dorato Sed Sede Quattro Quattro Uno Tre Uno Mi serve il Tre due Vero Vero Sei tre No Tre quattro Tre due Sì Prendo a fine episodio Dannazione Livello tre Si entra la base là sott'acqua Ok Un'auto Scroller Con gli ingranaggi Come funziona? Posso fare qualcosa che A volte passi lo schermo? No Aspetta Vai lì indietro Ok No 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 Questa cosa mi fa perdere Lo sacco di tempo Cosa tempo eh Per quello Aspetta Stella Non stella Stella Che vorrà dire? Stella No stella Ah Forse questo è in treno di dire Adesso possiamo prendere la stella Troppe cose hanno le stelle Nei giacchi di Kirby Ora la prossima Non dobbiamo prenderla? Non stella E stella E stella Ok Cacchio faccio Ho anche perso un attivo Normale però Primo Sì Ti servirà qualcosa se non lo mettono così a niente Ma che Sì Possiamo provare un'altra Un'altra specie di tuta Tuta psico Aspetta Non ho idea di come funziona B Psicotuono Tieni per molto Psicotuono E Pio lungo Poi lo lascia Su e B Psicotempesta Ok Adesso sei invincibile Però non posso volare Niente la faccio No Pio lungo Pio lungo Au sono stupido ok wow beh almeno niente cose con lo scherzo nel cacchio l'ho appena detto stupido ok almeno quello sticker dorato e praise ah usando il psittico ti danneccio no può andare solamente quelle due direzioni ehi che devo fare per quello ah allora puoi boh io giravo un po' in tutte le direzioni sad c'ha tutta roba ok c'è l'abilità veneno come le persone che voglio farci usare però mi sa che non le useremo nessuna delle due wow ok il secondo cosa ha attivato un cubo perfetto ok con questo livello siamo a posto peccato per l'altro no non è tutto interessante questo è il terzo livello giusto quindi si fra un po' ci salutiamo che devono andare appena lo sticker due ottimo medaia kinder day ok sicuro tratto è abitanti del cielo triplo dell'ax numero due numero due l'abbiamo quasi fatti tutti ok livello 4 sbloccato vabbè come sempre io vi saluto già qua anche se vedrete un minuscolo montaggio di me che prendo l'adesivo dorato quindi qua la genghetta è tutto noi ci siamo prossimi grazie per aver seguito questo episodio e arrivederci tutti quanti ciao 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 ciao